La Battaglia delle Termopili, un'eroica sconfitta La Battaglia delle Termopili è una delle più famose battaglie della storia antica. Si svolse nel 480 anno corrente, durante la seconda invasione persiana della Grecia. In questa battaglia, una piccola forza greca guidata dal Respartano Leonida riuscì a fermare l'avanzata dell'enorme esercito, persiano per tre giorni, dando tempo agli altri greci di prepararsi alla battaglia finale. Le cause della battaglia Nel 490 anno corrente, i persiani avevano già invaso la Grecia e avevano sconfitto i greci nella battaglia di Maratona. Tuttavia, il re persiano Cerse I non si era arreso e aveva deciso di lanciare una nuova invasione. I greci erano divisi tra chi voleva combattere i persiani e chi voleva arrendersi. Alla fine, fu deciso di resistere all'invasione. Tuttavia, i greci sapevano che non potevano sconfiggere i persiani in una battaglia campale. La strategia greca La strategia greca era quella di rallentare l'avanzata dei persiani finché non fosse stato possibile radunare un esercito più numeroso. Per questo motivo, i greci decisero di difendere il passo delle Termopili, un stretto passaggio tra le montagne che era l'unico accesso alla Grecia centrale. La battaglia Il 7 agosto 480 anno corrente, l'esercito persiano arrivò alle Termopili. I greci erano comandati da Leonida, re di Sparta. Leonida aveva solo 300 spartani con sé, ma era affiancato da contingenti di altre città greche, per un totale di circa 7000 uomini. I persiani attaccarono i greci il primo giorno, ma furono respinti. Il secondo giorno, i persiani tentarono di aggirare i greci, ma furono fermati dai greci di Focide, che si erano posizionati sulla montagna. Il terzo giorno, un traditore greco guidò i persiani attraverso un sentiero nascosto che permetteva di aggirare le posizioni greche. Leonida si rese conto che la battaglia era persa e ordinò ai suoi uomini di ritirarsi. Leonida e i suoi 300 spartani rimasero a combattere fino alla morte, impedendo ai persiani di inseguire i greci in ritirata. La loro morte fu un atto di eroismo che ispirò i greci a continuare a resistere all'invasione persiana. Le conseguenze della battaglia La sconfitta dei greci alle Termopili non fu decisiva. I greci riuscirono a vincere la battaglia navale di Salamine e la battaglia di Platea, che segnarono la fine dell'invasione persiana. Tuttavia, la battaglia delle Termopili ebbe un'importante risonanza simbolica. Fu vista come un esempio di eroismo e resistenza contro un nemico più forte. La storia di Leonida e dei suoi 300 spartani è ancora oggi un simbolo di coraggio e sacrificio.